In casa San Cataldese è tempo di fare visita alla Ragusa Calcio. La squadra di Infantino sarà di scena in terra e blea per la 27esima giornata del girone I di Serie D. La brillante vittoria contro il Trapani ha reso più nitida la tanto attesa salvezza grazie ai 37 punti al settimo posto in classifica. Per la San Cataldese è una trasferta delicata contro il Ragusa alla ricerca di punti preziosi per esorcizzare la zona play-out. Questa è la 27esima giornata del campionato di Serie D, girone I in programma domenica 12 marzo. Ore 14.30, Trapani-Realla Versa, Locri-Paternò, San Luca-Città di Acireale, Mariglianese-Città di Sant'Agata, Vibonese-Canicattì. Con calcio di inizio alle 15, Catania-Cittanovese, Licata-La Mezzia Terme, Santa Maria-Cilento-Castrovillari, Ragusa-Calcio-San Cataldese. Grazie.